Allora, vediamo come fare il clip di una base informativa a questo punto che prendo il DUSAF Il DUSAF è la destinazione di uso del suolo agricolo e forestale e facciamo il clip con un determinato comune quindi carico lo shapefile della provincia di Milano carico lo shapefile del DUSAF ok, questi sono i confini comunali mettiamo un bordo colorato ok, perfetto mettiamo che vogliamo, selezioniamo un comune anche magari un comune un po' più grosso questo dovrebbe essere corbetta facciamo zoom tool layer vediamo se il clip funziona sulla selezione allora andiamo in vettore geoprocessing tool clip ok, si può usare solo gli elementi selezionati l'input è quello, diciamo, grande quello da cui vogliamo estrarre fuori le informazioni ed è il DUSAF mentre il clip è quello che dovremmo utilizzare per fare il ritaglio e diciamo che usiamo solo gli elementi selezionati e diciamo di aggiungere il layer alla mappa dopo averlo creato e lo mettiamo qui qua ho sbagliato a chiamarlo pg-dusaf-4 e questo è corbetta ok fare l'elaborazione dovrebbe essere abbastanza veloce il risultato è esattamente il clip del DUSAF di corbetta per finire un attimo il lavoro esportiamo anche solo i confini del comune di corbetta nella versione 2.6 ho visto che c'è anche qui non c'è più save selection layer ma quando si salva con nome si usa esri shapefile e qua è estraimi solo gli elementi selezionati browse prove me corbetta aggiungi il layer salvato ok finito si è comodo copiare lo stile probabilmente nel salvataggio c'era la possibilità di copiare lo stile comunque noi possiamo fare copy style paste style questo lo rimuoviamo questo lo rimuoviamo e abbiamo il clip del DUSAF lo salviamo clip corbetta e nel prossimo video vedremo come gestire questa tabella DUSAF 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 Grazie a tutti.